Vendisi o affittasi garage, 52 metri quadri, soppalcato, in via Volturno 16B. Vendita Villa, contrada a Babbaura, viale della rinascita, piazzale degli eroi, quartiere Mimiani a San Cataldo. Villa, contrada a Babbaura, di metri quadri 230, oltre 90 metri quadri di pergolato, composta da piano terra, cucina, soggiorno, stanza studio, bagno e lavanderia. Primo piano, quattro camere da letto, di cui una con bagno in camera, ripostiglio e bagno più 4.000 metri quadri di terreno. La villa si trova in ottimo stato, con rifiniture medio-alte, migliorie, cancello elettrico e recinzione, infissi a taglio termico, allarme, cappotto esterno per isolamento termoacustico, porta blindata, impianto di riscaldamento a GPL. Prezzo 360.000 euro. Vendita appartamento Via Beppe Montana, quartiere Cristore, viale dei Platani, Santa Germana, zona mercato, Macello, San Cataldo. Appartamenti di nuova costruzione a prezzi vantaggiosi in zona panoramica, superfici disponibili. Appartamento a piano terra con giardino. Primo piano, appartamento di metri quadri 106, più veranda, composto da tre camere da letto, cucina soggiorno e due bagni. Consegna febbraio 2015. Prezzo 125.000 euro.